Noi come 5 Stelle vogliamo fermare le mangiatoie e le grandi opere di cemento inutili che servono solo a chi le costruisce e non al territorio. Un altro cantiere di Videleghe 5 Stelle è la strada Pedemontana Veneta, 94 km di bypass tra Vicenza e Treviso. Un progetto che nasce più di dieci anni fa e che per la regione che sfida l'autonomia è quasi un'opera simbolo. Non siamo qua per fermare, non ci hanno votato per fermare, per tornare indietro. Ma mentre la Lega parla di opera strategica, i 5 Stelle che in Veneto sono all'opposizione puntano il dito contro costi troppo elevati e scempio ambientale. Inizialmente doveva essere una superstrada gratuita, costare circa 800 milioni di euro e adesso siamo intorno a 2 miliardi e mezzo. Il costo complessivo nei prossimi 39 anni però è ancora più alto. 12 miliardi di canone di affitto che in regione i cittadini pagheranno al costruttore, calcolati su una previsione di traffico di 25 mila auto al giorno. Se il traffico fosse inferiore avremmo ovviamente delle perdite e tutte queste perdite andrebbero ripianate con le tasse dei cittadini. Se invece il traffico fosse superiore, il guadagno superiore andrà al costruttore privato. Un'anomalia su cui è accesi i riflettori anche la Corte dei Conti. Quello sarebbe il casello di breganze che doveva essere inaugurato a ottobre. Come vede non c'è nulla. Ma se il taglio del nastro potrebbe ritardare dalla regione non c'è nessun tentennamento e anche gli enti locali rimandano le critiche al mittente. I 5 Stelle ne fanno una questione anche questa volta ideologica. Noi abbiamo avuto uno tsunami socio-economico con famiglie e imprese in fortissima difficoltà tutt'oggi. Infrastrutture, TAV compresa, possono aiutare quella ripresa economica. La Pedemontana ormai è troppo avanti per rinunciare. Io l'ho fatta per anni e sinceramente se avessi avuto la Pedemontana sarei stato più contento. Non c'è tanto traffico secondo me. Secondo me sono soldi buttati. Se non tutti i veneti sembrano d'accordo, il mondo delle imprese invece non ha dubbi. Nell'area Pedemontana-Veneta c'è il più alto tasso di imprese manifatturiere di tutta la regione. 8 assunzioni su 10 sono nella manifattura, quindi non si può tagliare fuori queste imprese dalle principali arterie e quindi bloccare un'opera così importante per lo sviluppo del territorio.